Ciao, sono Luigi Pagli Ciao, sono Pietro Rizzulli Ciao, sono Simone Esposito Il nostro sponsor è G-Suite Ritual Mangiocornette Ciao a tutti, il mio nome è Gianluca Borrelli Il mio nome è Daniele Cozzoni Il nostro sponsor è Gansman Buon anno, Alexa Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti